O da soli o con la Svizzera, provincia da riordinare, spesso da accorpare, è la legge. Ma Varese non ci sta, vuole identità, vuole restare capoluogo e è noto, non vede di buon occhio una fusione con Como e Lecco. Così, mentre oggi al Pirellone si discutevano gli accorpamenti, dal Varesino è arrivato un nuovo sussulto autonomista. Il presidente della provincia, il leghista Dario Galli, dopo aver redarguito il governatore Lombardo Formigoni, deve difendere le realtà lombarde, ha detto, invitandolo a una presa di posizione contro i tagli delle province, ha chiarito come a Varese convenga essere annessa la Svizzera, piuttosto che perdere lo status di capoluogo, avremmo maggiori vantaggi, ha detto. E il leitmotiv di questi mesi, dopo l'esplosione del caso province, era stato per primo il leader della Lega dei Ticinesi, Giuliano Bignasca, in un'intervista a ITV, a lanciare l'allargamento della Confederazione al nord Italia. Como, Lecco, Varese, sono un po', no, Como, Lecco, Bergamo è un po' fuori, però dico Cioè, diciamo, Bergamo è il sogno, il resto è fattibile. Ecco, il Bergamo è il sogno, il resto è fattibile. Nelle prospettive di Bignasca c'è una Svizzera scesa fino all'Interlanda di Milano, quasi. Che scende lì, che noi siamo disposti a ritirare un po' di debiti, a fare anche un po' di lavori, eccetera, eccetera, perché le infrastrutture vostre e nostre sono un po' differenti. No, la vera domanda è, ma Lecchievi, Comaschi, Varesotti, eccetera, eccetera, siete disposti a venire con la Svizzera? In attesa di un'eventuale revisione della Costituzione italiana, Galli ipotizza una fusione di Como con Lecco o con Monza Brianza, evidenziando una salvezza per Varese. Abbiamo quasi un milione di abitanti, ha detto, accorparci significerebbe creare disservizi. Noi siamo sicuri che la nostra provincia rimarrà tale, ma, aggiunge, adesso è il momento di combattere. La cosa che fa riflettere, ha concluso, è che mentre la Lega è su questa linea a tutti i livelli, nel PD e nel PD, mentre a livello locale la pensano come noi, appena si sale tutti sono a strizzare l'occhio al governo Monti. Magari è abbastanza bella, però, insomma, magari è un pochino costosa, l'abbiamo evitata, però...